Ed eccoci qui ragazzi con le pagelle di Survivor Series War Games Secondo me l'evento più bello da quando Triple H ha assunto il comando della WWE Partiamo con l'analisi dei match Primo match della serata, Women's War Games Match Team Belair, composto da Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim e Becky Lynch Contro il Team Bayley, composto dalle Damage Control Ossia Bayley, Dakota Kai e Dios Kai, Nikki Cross e Rhea Ripley Il match è stato molto bello e combattuto bene da entrambi i team Ho sentito delle critiche sui tempi di ripresa Sul fatto che magari alcune superstar ogni tanto sparivano dall'inquadratura Beh ragazzi questi sono i War Games Non possono essere niente di più e niente di meno Se non vi piace la tipologia del match è un discorso Però se andiamo ad analizzare come hanno combattuto all'interno del match I singoli team e le singole ragazze Beh bisogna solo che fargli i complimenti perché hanno dato vita ad un gran bel match Ci sono stati anche dei momenti un po' di tensione Perché qualcuno ha sbagliato uno spot rischiando di farsi male Tra cui Io Sky ha sbagliato uno spot Doveva dare una ginocchiata se ricordo bene proprio a Bianca Belero E insomma ha faticato un po' Però poi la ragazza è stata perfetta Ha eseguito anche un moonsault dalla sommità della gabbia Assolutamente meraviglioso Vittoria un po' telefonata del Team Belere E telefonato anche il fatto che sia stata proprio Becky Lynch a chiudere il match Questo ha tolto un po' di pathos all'incontro Per dirla tutta Forse ci sarà una rivalità tra Asuka e Rhea Ripley Visto che Asuka gli ha sputato in faccia il Green Mist Ma non è detto che ci sia ma è molto probabile Hanno combattuto ripeto tutte bene Un'altra brutta sconfitta però per le Damage Control Tra le altre cose è stata schienata proprio da Kotakai Quindi un'altra brutta sconfitta per questa Staple Che a me piace però senza Beli campionessa femminile Non è che ha tutte queste ragioni di esistere a dir la verità Poi ci sono anche dei momenti in cui ovviamente Beli Poi certo ci saranno anche momenti in cui Beli starà senza cintura Perché la perde perché deve lasciare posto al mini-evento alle altre ragazze Perché non può ovviamente fare ostaggio il titolo Non può mettere in ostaggio il titolo di campionessa femminile di Rom Un po' come sta facendo Roman Reigns Però è chiaro che almeno un regno deve farselo Altrimenti la Staple non ha ragione di esistere Poi dopo può continuare anche la Staple Può continuare anche senza Beli Che detiene la cintura di campionessa femminile di Raw o di SmackDown Se ci sarà un draft e le ragazze passeranno a roster blu Voto al match 7 su 10 AJ Styles contro Finn Ballor Single match Un match durato 18 minuti e 25 secondi Ma a me sembra che sia durato 2 minuti Per quanto mi ha divertito Per quanto mi ha preso Per quanto mi è piaciuto Hanno combattuto nel loro stile Hanno combattuto come se non fossero in WWE Come se fossero in Giappone O comunque in un'altra federazione Che lascia più spazio alle individualità Piuttosto che allo storytelling interno Al match Giusta la decisione di portare con una scusa Fuori entrambi i team Perché AJ Styles è stato accompagnato da Yossi A Bordoring Mentre Finn Ballor è stato accompagnato dal Jungeman Day E con un escamotaggio Diciamo hanno fatto scoppiare una lista Che poi è proseguita negli spazi In dovere al pubblico Quindi oltre le transenne E poi entrambi i team sono spariti Nel backstage Giusto? Così si è lasciato da soli AJ Styles e Finn Ballor Che hanno potuto combattere un match pulito Senza interferenze Senza nessun tipo di azione Che poteva pregiudicare la bellezza del match stesso Si sono impegnati tantissimo Hanno rischiato spesso di farsi male I segni che avevano sul corpo Ne sono una testimonianza Hanno voluto proprio disputare un grande match Si sono impegnati tantissimo Il match è stato assolutamente strepitoso Mi è piaciuto tantissimo AJ Styles torna a vincere Dopo tantissimo tempo Un match in un pay-per-view Erano tantissimi mesi Forse addirittura anche più di un anno Che AJ Styles non vinceva un match in pay-per-view Importantissima vittoria per AJ Styles Non è detto che sia finita qui La rivalità tra Yossi e il Judgment Day E diciamo che questo match Questo meraviglioso match Poi è figlio del fatto che non è stato Che non era possibile Fare un secondo World Games maschile Perché la WI Come ormai quasi tutte le aziende Segue la strada del politicamente corretto E se dà un match di primo piano Agli uomini Deve darlo anche per forza alle donne Anche quando non ce n'è bisogno Anche quando non ci sono Tra l'altro le circostanze Perché il World Games femminile è stato bello Ma si poteva anche evitare Sarebbe stato più giusto Un secondo World Games maschile Dove appunto Yossi Insieme a Mia Yim Che non si sa ancora bene Se fa parte della Stable Se è parte integrante della Stable O se è venuta solo in soccorso In queste settimane Per fare da blocco Aria replay Era più giusto appunto Fare un World Games match Tra Yossi e Mia Yim Contro il Judgment Day Però comunque sia È andata bene lo stesso Perché il World Games femminile È stato bello E perché grazie All'assenza del World Games Tra Yossi E il Judgment Day Abbiamo potuto ammirare E godere Di un single match Tra AJ Styles E Finn Balor Voto 10 su 10 Single match Per il titolo di campionessa Femminile di SmackDown Ronda Rousey Contro Shotzi Match telefonatissimo Si sapeva Fin da subito Della vittoria di Ronda Rousey Ma apprezzo il fatto Che la WWE Dopo i disastri Di Shotzi A Money in the Bank Non ha bocciato la ragazza Ma gli ha dato Una nuova opportunità Una nuova opportunità Che Shotzi Si è giocata benissimo Perché Surling Ha fatto molto Molto bene Alla NXT Aveva fatto Bene Aveva dimostrato Di avere talento Però poi una volta Arrivata nei main roster Si è completamente persa Ha disputato un match Pessimi Sia a SmackDown Che nei pay per view La ragazza si è riscattata Sono felice per lei E speriamo che appunto Possa migliorare ancora in futuro E così che un giorno Anche lei possa ambire Ad essere campionessa Femminile Molto molto tenero Il fatto che Shotzi Spesso ha alzato il dito E lo sguardo Verso il cielo Per cercare il volto Di suo padre Che purtroppo È scomparso Qualche settimana fa Beh Gli ha dimostrato Che ce l'ha fatta Shotzi Adesso Con questa prestazione Riscatta Tutti gli errori Del passato E adesso Può costruirsi Una carriera Nel main roster Voto 6 su 10 Triple threat match Per il titolo Di campione Degli Stati Uniti Austin Theory Contro Seth Rollins Contro Bobby Lashley Match strepitoso Durato All'incirca Un quarto d'ora 14 minuti E 50 secondi Per essere precisi Ma che doveva Durare di più Perché è stato proprio Bello Bello Scambi di mosse pregevoli Spot interessanti Intensità Altissima La WWE Ha costruito Un match perfetto Perché ha preservato Gli sconfitti Seth Rollins E Bobby Lashley Ha destituito Il titolo Degli Stati Uniti Ad Austin Theory Io ve l'avevo detto In un video dedicato Proprio ad Austin Theory Un video che avevo Pubblicato Su questo canale YouTube Poco dopo La perdita Della valigetta Del Money in the Bank A Raw Dove appunto Vi dicevo che forse Quel fallimento lì Non era La fine di Austin Theory Ma un nuovo inizio Per Austin Theory Ora è libero Dalla valigetta Che sembrava Ostacolarlo Più che aiutarlo Ora è libero Di muoversi Come vuole Ora è il campione Principale Del roster Principale Della WWE Ora è nel Main Event Di Raw Ora è lui Al centro Dell'attenzione Austin Theory È un fenomeno È un talento Incredibile E adesso Deve dimostrarlo Anche a chi Ingiustamente Secondo me Lo ha criticato Adesso è nel Main Event Adesso secondo me È nel posto Che gli aspetta E adesso Adesso può costruire Una seconda parte Di carriera Della sua Giovanissima carriera Che sia ancora più Radiosa E bella Di quella Appena Conclusa Voto 10 su 10 War Games Maschile La Bloodline Contro Scimus Ridge Holland Butch Drew McIntyre E Kevin Owens Match Anche questo Molto Molto Bello Lo storytelling Del match È stato costruito In maniera Perfetta La storyline Che ha convolto Jeyuso E Sammy Zane Che è stata costruita Nel corso di queste settimane Nel corso degli ultimi mesi È stata Un vero e proprio Capolavoro E ha trovato Il suo apice Nel War Games Maschile Veramente qualcosa Di strepitoso Strepitoso L'abbraccio Di Roma Renz A Jeyuso Prima di entrare Nella gabbia Jeyuso è partito Come primo membro Della Bloodline Roma Renz Che ferma Jimmy Uso E fa entrare Sammy Zane Per aiutare Jeyuso Il superkick Di Jeyuso A Sammy Zane L'ha colpito Per sbaglio Voleva colpire Scimus Drew McIntyre Adesso non ricordo Ma per sbaglio Colpisce Sammy Zane Sammy Zane Non reagisce Sammy Zane Alla fine Tradisce In maniera definitiva Kevin Owens E dà La possibilità A Jeyuso Di sferrare Il colpo di grazia Jeyuso Frog Splash Della terza corda Su Kevin Owens Conto di tre E la Bloodline Vince E Jeyuso Abbraccia Sammy Zane Cioè La perfezione La perfezione La perfezione Perfetta La storyline Perfetto Lo storytelling Bello il match Si sono impegnati Tantissimo I componenti Perfetta Anche l'idea Della WWE Di non fare interagire Mai Kevin Owens E Sammy Zane Tranne appunto Che alla fine Secondo me Scelta assolutamente Azzecata Non si sono mai Toccati Non si sono mai Sfiorati Si sono incrociati Ma non sono mai Venuti alle mani Questa è la perfezione Questo È il wrestling Entertainment Questa È la vera WWE Voto 10 su 10 Si concludono qui Le pagelle di Survival Series War Games Ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace A questo video Commentate questo video Condividete questo video Seguitemi anche Su Facebook C'è April Ring Una pagina che parla Solo ed esclusivamente Di wrestling Creata e gestita da me Trovate il link In the box E noi Come al solito Ci becchiamo Al prossimo video Ciao belli